Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia e in studio Nicola Giannattasio, traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana, sulla FIPILIP, per il cantiere aperto per i lavori di manutenzione al viadotto del Turboni e possibili disagi tra Ginestra, Fiorentina e Montelupo, Fiorentino in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Sulla strada regionale 436 Francesca, senso unico alternato e restringimento di carreggiata per lavori all'altezza del chilometro 16 fino al 31 marzo. Buon Sì Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio!